Andrea Amato, giornalista, oggi a San Patrignano per il WeFreeDay 2011, fra le altre cose hai incontrato gli studenti e hai presentato il tuo libro L'impero della cocaina. Come nasce un libro sulla cocaina e perché questa scelta? Innanzitutto la cosa importante di oggi è stata questa esperienza incredibile qui a San Patrignano, questi incontri, queste commissioni di esperienze davvero incredibili. Nasce un libro sulla cocaina perché da anni ormai c'è un'emergenza cocaina in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, quindi ho iniziato ad occuparmi in Italia, a Milano, da giornalista e poi con il fotografo Alberto Giuliani abbiamo trovato delle connection buone, di buoni informatori in Colombia e siamo andati a fare questo viaggio dalla Colombia all'Italia seguendo la foglia di coca coltivata nella giungla che poi viene cristallizzata, diventa cocaina. Attraversa l'oceano, arriva in Europa, diventa una pallina venduta nelle nostre strade a 50 euro e le nostre strade sono piene. In mezzo a tutto questo c'è il controllo dell'andrangheta che controlla il 60% del traffico mondiale di cocaina, sfalsando completamente l'economia mondiale e gestendo il traffico e le dipendenze di milioni di persone. Oggi San Patrignano ha incontrato tanti giovani, si parla sempre di giovani, di sballo, però li ho visti molto attenti a quello che tu raccontavi e poi a tutti gli altri che hanno raccontato le loro esperienze. Secondo te effettivamente c'è una particolare attenzione comunque da parte del mondo giovanile a questa problematica? Beh, è la loro vita, è il loro mondo, è il loro pane quotidiano, hanno il compagno di banco magari, il fratello poco più grande o l'amico, il cugino. Per loro è assolutamente una cosa comune, per la mia generazione che era quella di transito tra l'eroina e la cocaina c'erano le canne, non c'era tutta questa diffusione. Per loro invece purtroppo è la quotidianità, è la normalità e quindi è un tema che sentono. Per te oggi è la prima volta a San Patrignano, che effetto ti ha fatto e che idea ti sei fatto di questa comunità? Beh, ho un groppo in gola da questa mattina, da quando alle 10 e mezzo ho assistito allo spettacolo e ancora non mi è passato, mi passerà credo a Milano ma mi rimarranno dentro il cuore delle immagini incredibili di questa stupenda giornata. Grazie. Grazie a voi.